Io rimango senza parole, guardi, che si parla di sci con 600 morti al giorno, guardi, non mi permetta, penso che dovremmo parlare a tutte le sofferenze che questo crea a tutte queste persone, non andiamo a sciare per divertirci, poi sapendo che questo creerà un aumento dei contagi e un aumento dei morti, ma io guardi, penso che questo non è un paese normale.